Ciao Diana, oggi è arrivato un messaggio per te. Adesso te lo farò ascoltare. Vediamo chi te l'ha mandato. Ciao Diana, sono Marta. Come stai? Io sto così così perché sono a casa e non ti posso vedere. Scusa se non ti porto nel calote e nei biscottini. Speriamo di vederci presto. Tanti auguri, buona Pasqua, ciao!